Ciao, benvenuti in questo video tutorial targato Musa Formazione, il tuo polo universitario Pegaso. In questo video ti mostrerò come effettuare la prenotazione di un esame. Cliccando in Corsi, possiamo selezionare la materia di riferimento. Per prenotare un esame è necessario aver visualizzato almeno l'80% delle video lezioni e aver completato la scheda AVA per l'insegnamento, una scheda di gradimento. È necessario anche eseguire almeno un test di autovalutazione. Quando avrai ottenuto la spunta verde per i requisiti appena citati, puoi procedere cliccando sul tasto Prenota. Per questo tutorial è tutto, se hai dubbi o altre domande puoi scrivere nei commenti o contattarci nel nostro gruppo Facebook Orientamento Laurea e Master Online. Grazie a tutti.